La Chiesa di Sant'Agnese Abbiamo constatato che è stata una infestazione di insetti che hanno praticamente consumato una piccola trave che reggeva poi parte del tetto Adesso dovremmo revisionare un po' solo però la parte dell'abside della chiesa Ci sono stati i crolli all'interno? No, 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 l'interno regge anche perché la volta è incotto quindi è ben solida, c'è una minima infiltrazione d'acqua ma che non crea difficoltà La chiesa rimane agibile nella parte della navata e quanto prima bisogna provvedere alla revisione di tutto il tetto dell'abside Erano stati fatti di recente dei ristauri o in previsione? Il ristauro è stato fatto sei anni fa Certamente se questa è un'infestazione di insetti è quello che nessuno può prevedere Per cui adesso bisognerà intervenire quanto prima Comunque la messa si fa regolarmente? Sì, 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 ci vengono inibiti, sì, proibito l'utilizzo dell'abside ma quella non determina la chiusura della chiesa Grazie